A causa del coronavirus sei costretto alla quarantena, ma hai una scelta. Preferisci A. Stare a casa con moglie e figli. O B. Il rischio globale del coronavirus, delle scuole, non in ordine e grado. 21 maggio 2020 Ciao ragazzi, oggi ho deciso di utilizzare altre fonti di informazioni perché la tv mi ha stufato. Anche perché ormai ho perso la speranza che dicono qualcosa che cambi la mia situazione. Quindi, meme. Per esempio, l'estate in quarantena. Non mi ci vedo con costume, mascherina e ciabatte. E al posto del cocco la mucchina. Ma, quasi quasi. Corse clandestine A quanto pare mica tanto, visto che la stimatissima signora sessantenne del mio palazzo sia improvvisamente appassionata alla triathlon, così come tutti i ragazzi del mio vicinato. Per non parlare poi dei poveri animali domestici. Pensate che anche a me è venuta voglia di portare il mio porcino di indial guinzaio. Questo è proprio vero. Penso di aver ottenuto il posto nel Guinness dei primati per il numero di docce fatte in un mese. Questo invece... No, non è divertente. Ed ecco quelli sugli italiani. Si commentano da soli. Buongiorno e benvenuti sul nostro volo. Volevo ringraziarvi soprattutto ai milanesi là in fondo. Questa non fa idea. Però ho giocato un sacco a Monopoli in questi anni. Volevo dire mesi. Questa poi. Siamo passati da gelato isolato e da piscina mascherina. Questa invece mi ricorda il viaggio di istruzione che avrei dovuto fare, ma che è sparito come la mucchina. Ed ecco i miei preferiti. Quelli su film e serie tv. Grazie a tutti. Enormemente grazie. Ciao a tutti.